La visita ad Agnone del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha ridefinito l'accordo di programma inerente al pacchetto giovani, la nuova dotazione di fondi è di poco inferiore i 7 milioni di euro. La misura giovani al lavoro è rivolta a disoccupati e inoccupati tra i 18 e i 35 anni per l'avvio di iniziative imprenditoriali o progetti realizzati in cooperativo e in forma societaria fino a un valore massimo di 30 mila euro per giovane e vede il finanziamento di circa 170 persone. La misura va d'etorno e rivolta invece ai disoccupati della stessa fascia di età per uno stece all'estero della durata di 6 mesi per 43 giovani laureati. La terza misura dai credito ai giovani è rivolta alle imprese che si impegnano ad assumere poco meno di 130 persone svantaggiate sotto i 35 anni per oltre un milione e 400 mila euro di cui oltre 300 mila posti in una riserva regionale aggiuntiva al programma garanzia giovani. Sono in tutto 340 coloro i quali presto in Molise potranno confrontarsi con il mondo del lavoro. Per i ragazzi di garanzia giovani da gennaio partirà la possibilità di avere un finanziamento da 5 mila a 50 mila euro senza garanzie, senza interessi per sette anni perché provino a mettere sulla loro azienda. Poi insieme a questo naturalmente dobbiamo rendere le cose più semplici perché se uno deve far partire la sua azienda deve avere meno burocrazia, deve avere meno complicazioni e deve stare in un contesto favorevole. Il lavoro sta insieme alla capacità di avere servizi pubblici che funzionano, ad avere infrastrutture efficienti. Agnone è una testimonianza meravigliosa da questo punto di vista. imprese che hanno una grandissima storia alle spalle ma che hanno anche un grande mercato davanti. Fino a ieri avevamo un contratto teoricamente buono che non applicava nessuno perché su 100 contratti 85 erano precari, co-co-pro, co-co-co-co, contratti a chiamata e altre robacce così. Adesso le cose stanno cambiando, abbiamo molti più contratti stabili quindi non è per nulla vero che si precarizza, peraltro basterebbe guardare i numeri. I contratti a tempo determinato durano più a lungo e io credo che tra avere un contratto di tre mesi e averlo di tre anni sia meglio averlo di tre anni. Sarà banale ma io credo che sia così e le leggi che abbiamo fatto producono questo risultato. Quindi noi oggi abbiamo un mercato del lavoro dove più gente lavora e lavora in maniera più stabile. Io credo che questo sia il risultato che volevamo ottenere e lo stiamo ottenendo.